Questo brano che adesso esulirà Matteo è una charla, un brano popolare ingherese, credo che la prevenzione è proprio quella, ma scritta da un italiano, Vittorio Monti. Poi appunto nella trastizione è che preferite una foto di Vittorio Monti. Sentirete come mi sarà nuova questa storia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.